Come si svolge l'edizione 2014 di GiocoSport? Sì, continuiamo con la nostra attività in collaborazione con il comune di Ascoli e con il provvedorato di Ascoli Viceno. Anche quest'anno abbiamo coinvolto tutti i ragazzi delle scuole elementari e tutti i ragazzi delle scuole medie. Facciamo due attività distinte, una è il gioco sport per le scuole elementari e un altro invece sono i giochi piceni per le scuole medie. Ci sono state fino ad ora le fasi, ad esempio per le scuole medie, le fasi di istituto, tutti i ragazzi sono venuti al campo e adesso facciamo il 16, faremo le finali. Il 13 invece coinvolgeremo sia i ragazzi delle scuole elementari sia anche i ragazzi delle scuole medie in attività di finale al campo, con attività multidisciplinari, con la collaborazione delle scuole, con la presenza di tutti gli insegnanti e del nostro staff tecnico. Sono manifestazioni fondamentali perché incidiamo sin dalla giovanità nei confronti dei ragazzi e li abituiamo all'attività motoria che è un strumento educativo integrale in senso assoluto praticamente. Quindi è un'attività formativa e sin da ragazzini imparano a rispettarsi e soprattutto ad impegnare il proprio corpo per migliorare, per imparare a vivere.